Epistola di Giacomo, capitolo primo. Giacomo, servitore di Dio e del Signor Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono nella dispersione. Salute! Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate a cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie appiena l'opera sua in voi, onde siate perfette e completi di nulla mancanti. Che, se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio che dona tutti liberalmente senza rinfacciare e gli sarà donata. Ma chiega con fede, senza star punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi già a quel tale di ricever nulla dal Signore, essendo uomo d'animo doppio instabile in tutte le sue vie. Ora, il fratello d'umil condizione si glori della sua elevazione, e il ricco della sua omiliazione, perché passerà come fior d'erba. Il sole si leva col suo calore ardente, e fa seccare l'erba e il fiore d'essa cade, e la bellezza della sua apparenza perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'amano. Nessuno, quando è tentato, dica, io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, né Egli stesso tenta alcuno. Ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. Poi la concupiscenza, avendo concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non errate, fratelli miei diletti, ogni donazione buona ed ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendono dal padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento. Egli ci ha di Sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle Sue creature. Questo lo sapete, fratelli miei diletti, ma sia ogni uomo pronto ad ascoltare, tardo al parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni lordura e resto di malizia, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi, e che può salvare le anime vostre. Ma siate fascitori della parola, e non soltanto uditori, illudendo voi stessi. Perché, se uno è uditore della parola e non fascitore, è simile a un uomo che mira la sua natural faccia in uno specchio, e quando se mirato se ne va, e subito dimentica qual era. Ma chi riguarda bene addentro nella legge perfetta, che è la legge della libertà, è persevera? Questi, non essendo un uditore dimentichevole, ma fascitore dell'opera, sarà beato nel suo operare. Se uno pensa ad essere religioso, e non tiene a freno la sua lingua, ma seduce il cuor suo, la religione di quel tale è vana. La religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa. Visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo. Epistola di Giacomo, capitolo secondo Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signor Gesù Cristo, il Signore della gloria, si ascevra da riguardi personali, perché, se nella vostra radunanza entra un uomo con l'anello d'oro vestito splendidamente, e ventra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste splendidamente e gli dice, tu siedi qui in un posto onorevole, e al povero dite, tu statene là in pie, o siedi a pie del mio scabello, non fate voi una differenza nella vostra mente, e non diventate giudici dai pensieri malvagi? Ascoltate, fratelli miei diletti, il Dio non ha Egli scelto quelli che sono poveri secondo il mondo, perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a coloro che l'amano? Ma voi avete disprezzato il povero? Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e che vi traggono ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su voi? Certo, se adempite la legge reale, secondo che dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso fate bene, ma se avete dei riguardi personali voi commettete un peccato essendo dalla legge convinti quali trasgressori, poiché chiunque avrà osservato tutta la legge, e avrà fallito in un sol punto, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commettere adulterio, ha detto anche non uccidere. Ora, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei diventato trasgressore della legge. Parlate e operate come dovendo essere giudicati da una legge di libertà, perché il giudizio è senza misericordia per colui che non ha usato misericordia. La misericordia trionfa dal giudizio. Che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella sono nudi o mancanti del cibo quotidiano, e un di voi dice loro, andatevene in pace, scaldatevi e satollatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, che giova! Così è della fede, se non ha opere, è per sé stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede, e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che v'è un sol Dio, e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore? Abramo nostro padre, non gli fu egli gestificato per le opere quando offrì il suo figliolo Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui, e che per le opere la sua fede fu resa compiuta, e così fu adempiuta la scrittura che dice, e Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere, e non per la fede soltanto. Parimenti, Rahab la meretrice, non fu anche la giustificata per le opere quando accolse i messi e li mandò via per un altro cammino? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Epistola di Giacomo, capitolo terzo Fratelli miei, non siate molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Poiché tutti falliamo in molte cose, se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno alla bocca e ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi facciamo voltare anche tutto quanto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e così sospinte dai fieri venti, sono dirette da un piccolissimo timone, dovunque vuole l'impulso di chi lo governa, così anche la lingua è un piccolo membro e si vanta di grande cose. Vedete un piccol fuoco, una gran foresta, incendia. Anche la lingua è un fuoco, e il mondo dell'iniquità, posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma la ruota della vita ed è infiammata dalla ghenna. Ogni sorta di fiere, di uccelli, di rettile, di animali, marini, si doma, ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male senza posa, è piena di mortifero veleno, con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca produce benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così? La fonte getta essa dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico fare olive o una vite fichi? Neppure può una fonte salata dare acqua dolce. Chi è, savio e intelligente fra voi, mostri con la buona condotta le sue opere in mansuetudine di sapienza. Ma se avete nel cuor vostro dell'invidia amare uno spirito di contenzione, non vi gloriate e non mentite contro la verità. questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi è letterrena, carnale, diabolica, poiché dove sono invidia e contenzione, qui vi è disordine d'ogni mala azione. Ma la sapienza che è dall'alto prima è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocresia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che s'adoperano alla pace. Epistola di Giacomo, capitolo quarto. Donde vengono le guerre e le contezze fra voi? Non è Egli da questo, cioè dalle vostre voluttà, che guerreggiano nelle vostre membra? Voi bramate, non avete, voi uccidete, invidiate, non potete ottenere? Voi contendete, guerreggiate, non avete, perché non domandate? Domandate, non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inemicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? Ovvero, pensate voi che la scrittura dichiara in vano che lo spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Ma Egli dà maggior grazia? Perciò la scrittura dice, E Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed Egli fuggirà da voi. Apprestatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, e fate cordoglio, e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia. Umiliatevi nel cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà. Non parlategli un contro gli altri fratelli. Chi parla contro un fratello o giudica un suo fratello, parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei un osservatore della legge, ma un giudice. Uno soltanto è il legislatore il giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu, chi sei che giudichi il tuo prossimo? Ed ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città, e vi staremo un anno, e trafficheremo, e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. Che cosa è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo, e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quell'altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui, dunque, che sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Epistola di Giacomo, capitolo quinto A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono rese dalle tignole, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro a voi, e divorerà le vostre carni a guisa di fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che ha ammietuto i vostri campi e del quale li avete frodati grida, e le grida di quelli che ha ammietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Voi siete vissuti sulla terra nelle delizie e vi siete dati ai piaceri. Avete pasciuto i vostri cuori in giorno di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi resiste. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra, paziettando, affinché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate anche voi pazienti, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non murmurate gli un contro gli altri, o non denunziate i giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, per esempio di sofferenza e di pazienza i profeti che han parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che han sofferto con costanza. Avete udito parlare della costanza di Giobbe, e avete veduto la fine riserbategli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassioni ed è misericordioso. Ma innanzitutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né con altro giuramento, ma sia il vostro sì sì e il vostro no no, affinché non cadiate sotto giudizio. C'è fra voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Salmeggi. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui un gendolo d'olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà, e se gli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Confessate dunque i falli gli uni agli altri, e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto, fatta con efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi, e pregò ardentemente che non piovesse, e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produce il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità, e uno lo converte, sappia che colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima di lui dalla morte, e coprirà moltitudine di peccati.